Il 28 aprile 1945 Benito Mussolini e Claretta Petacci vengono uccisi sul lago di Como e trasportati a Piazzale Loreto dove sono esposti il giorno seguente al pubblico ludibrio. Il 2 maggio la guerra si conclude in Italia e l'8 maggio in Europa ma il giallo dei documenti che Mussolini recava con sé al momento dell'arresto continua. La morte di Mussolini e dei suoi gerarchi che costituivano il governo di Salò fa uscire di scena i testimoni più importanti dei due anni di Repubblica Sociale dal 1943 al 1945. I documenti provenienti dall'archivio di Mussolini sono prove preziose della storia ufficiale e ufficiosa di quegli anni. Per questo sin dalla morte del dittatore si scatena una caccia ai suoi archivi. La ricerca riguarda la documentazione raccolta rigorosamente dal duce sui principali protagonisti, sugli uomini che gli furono vicini e i suoi avversari. Tutti cercano di entrare in possesso dei documenti, agenti britannici, statunitensi, agenti del servizio militare italiano, dirigenti comunisti e monarchici. Ma la documentazione più ambita è quella del carteggio segreto fra Churchill e Mussolini. Cosa contengono di così prezioso e forse pericoloso quelle lettere che molti vedono, pochi leggono e nessuno conferma di possedere. Sono lettere compromettenti per il grande eroe della seconda guerra mondiale, Sir Winston Churchill, colui che ha guidato l'Europa contro la tirannia di Hitler, colui che con genio strategico e tattico ha coordinato gli attacchi militari che hanno condotto all'annientamento del nazifascismo. Colui a cui non solo l'Europa, ma tutto il mondo deve gratitudine. Perché molti fra coloro che dicono di conoscere la vera storia della morte di Mussolini, del trafugamento dei valori dei gerarchi, del carteggio Churchill-Mussolini subiscono pressioni, rischiando e a volte perdendo la vita. Perché Churchill fa di tutto per occultare la verità sull'esistenza dei documenti? Cosa c'era di così compromettente nel carteggio da spingere Churchill a fare questo? Il 2 maggio la guerra in Italia è ufficialmente conclusa. I tedeschi si sono arresi, il governo militare alleato si è insediato. Una folla esultante accoglie le truppe anglo-americane. Quelle che vediamo sono immagini in parte inedite recentemente ritrovate negli archivi americani. Ma fra la popolazione civile una guerra fratricida è in corso. Nelle città, nei paesi, nelle campagne si scatena la caccia ai fascisti. Tribunali popolari improvvisati emettono condanni a morte per crimini di guerra. Crescono di giorno in giorno le esecuzioni sommarie di fascisti che hanno avuto responsabilità istituzionali. Ma viene uccisa anche gente comune, gente che aveva aderito al regime per sopravvivere. Ragazze e donne senza un credo politico che hanno avuto come fidanzato un fascista o un soldato tedesco vengono rapate ed esposte alla pubblica vergogna. La tensione politica è altissima. Sul lago di Garda, abbandonato di gran corsa da nazisti, da ministri e dirigenti della Repubblica Sociale, si scatena la caccia ai documenti di Mussolini. Gli americani giungono a Salò. A Garniano si impossessano dell'archivio della segreteria particolare del Duce. Lo sequestrano, lo portano in gran segreto a Roma e lo microfilmano. Il 29 aprile 1945, il giorno dopo la morte di Mussolini, lo storico Frederick William Deakin, amico da sempre di Churchill, ufficiale dell'Intelligent Service, è anche lui sul lago di Garda con i servizi di sicurezza britannici per recuperare i documenti del Duce. Nel racconto di Bruno Lonati, l'uomo che afferma di aver sparato a Mussolini il 28 aprile, la missione del misterioso capitano John è di uccidere Mussolini e recuperare il prezioso carteggio. Quando Lonati lo incontra nuovamente ai primi di maggio a Milano, in via Moscova, John sembra non dare più importanza a quelle compromettenti carte. Carradori, che dal 25 aprile ha preso in custodia le due borse, le riconsegna quando Mussolini sale sul camion travestito da tedesco. Probabilmente entrambe le borse contengono documenti relativi a Churchill. Mussolini trattiene una copia dei documenti e consegna la seconda a Claretta Petacci. La copia del carteggio consegnata a Claretta Petacci resta nelle mani di Marcello Petacci. Il partigiano Bill sequestra i documenti a Marcello Petacci e li affida temporaneamente al partigiano Renzo Bianchi nel municipio di Dongo. Dice che ha visto in questi documenti una papeletta rosa, papeletta rosa con su scritto corrispondenza Churchill Mussolini. La cartella rosa, quella che Bill chiama papeletta, è contenuta nella borsa di Marcello Petacci che sparisce dal municipio subito dopo la fucilazione dei gerarchi. Bill non rivedrà mai più quella borsa. È stata sequestrata dal braccio destro di Luigi Longo, Aldo Lampredi? Sicuramente la borsa è a bordo di uno dei mezzi del convoglio che trasporta i gerarchi fucilati, scurtati dagli uomini dell'oltrepo pavese diretto a Milano. Probabilmente alcuni documenti vengono lasciati a Como. Il camion dei fucilati giunge a Milano nei pressi della stazione centrale alla Pirelli. Aldo Lampredi e i suoi uomini scambiati per fascisti da un gruppo di partigiani democristiani subiscono un temporaneo arresto e il sequestro dei documenti. Gli stessi partigiani democristiani visionano circa 200 documenti, ma il testimone che riferisce al giornalista Franco Bandini l'episodio ricorda con precisione solo il contenuto di quattro di essi. Secondo Bandini le lettere farebbero luce su un'intesa o un tentativo di intesa fra Churchill e Mussolini alla fine del 1939, inizi del 1940. Nella prima lettera datata a 5 dicembre 1939, Churchill, come ministro della Marina, avrebbe rassicurato Mussolini che i controlli del blocco navale britannico contro i tedeschi sarebbero stati benevoli nei confronti della Marina italiana. I controlli della Royal Navy, con le sue basi a Gibilterra, Malta e Suez, irritavano Mussolini che si sentiva prigioniero nel suo Mediterraneo. Nelle altre tre lettere, Churchill, per mantenere neutrale l'Italia dalla guerra, avrebbe, sempre secondo la versione di Bandini, ripreso in vario modo gli stessi temi, indicando la possibilità di negoziazione. L'ammiragliato britannico, di cui Churchill è primo lord, avrebbe interesse a non far entrare l'Italia in guerra prima del giugno 1940, come effettivamente accade. Churchill sta forse consigliando Mussolini in modo da servire gli interessi britannici? Se così fosse, le carte sarebbero veramente scottanti. Quanto ricostruito riguarda la cartella rosa consegnata da Mussolini a Claretta. E l'altra cartella? Quella che si trova fra i documenti sequestrati dal partigiano Billa Mussolini al momento dell'arresto? Allora ho preso la borsa, l'ho tirata su e l'ho aperta per ispezionare tutto quanto. Lui mi ha fermato il braccio e mi ha detto guardi che quei documenti lì sono segreti, sono molto importanti per il futuro dell'Italia. I documenti sequestrati da Billa Mussolini il 27 aprile vengono custoditi nella banca di Domaso, al nord di Dongo. Nei primi giorni di maggio i documenti vengono presi in visione dal partigiano Neri e da Ercole Botta, un partigiano che racconta la vicenda al fratello Alberto in quei giorni al seguito delle brigate nere. Si trattava del carteggio di Winston Churchill con Mussolini. Inoltre c'era un dossier del nostro principe Umberto che era un po' in amore, era un po' birichino a quanto pare. Sia Ercole Botta che Neri conoscono l'inglese. Accedono quindi al contenuto del carteggio che riguarderebbe una trattativa in corso fra Churchill e Mussolini in prossimità dell'entrata in guerra dell'Italia nel 1940. Churchill, in suo manoscritto, cedeva all'Italia la Nizza, la Savoia e anche Malta. È una fitta rete di racconti indiretti, di si dice, di forse. Dei documenti, ripetiamo, non esiste un ufficiale riconoscimento da parte degli storici. Neri nasconde i documenti sotto l'altare della chiesa di Geralario con la complicità del parroco Don Carlo Gusmeroli. Così almeno racconta la staffetta Gianna al fratello partigiano Cesare Tuissi. Cesare ha detto a me che i documenti li aveva nascosti il mio fratello sotto l'altare di una chiesa, ma che con lui c'era un'altra persona che non mi ha saputo dire chi era. Dopo si capisce che dopo è sparito mio fratello qualcuno è andato a riprenderli. Dopo mio fratello, quando si aggregò la domo, perché voleva sapere delle spavvisioni, seppe che Bill aveva i documenti. I documenti ritornano nelle mani di Bill e Pedro, che in quei giorni alloggiano a Geralario in casa di Alois Hoffman, uno svizzero collegato con i servizi segreti del suo paese. Secondo la testimonianza di Bill, i documenti passano anche per la villa del defunto senatore leghista Gianfranco Miglio. La guardia di finanza Antonio Scappin, nome in codice Carlo, l'uomo che ha avvisato il Comitato di Liberazione di Milano dell'arresto di Mussolini, viene incaricato di consegnare i documenti al generale Cadorma. Prima che questo avvenga, Scappin viene bloccato dal partigiano comunista Moretti che con... l'organismo. L'incaricato con cui io parlai era appunto Ugo Alcuno. Molti partigiani hanno avuto accesso ai documenti sostati a Dongo per poche ore, fra questi il partigiano Neri. Neri, che è una persona intelligente, si rende conto dell'importanza, dell'enorme importanza che avevano queste carte, il cosiddetto carteggio Ciucci Mussolini, perché si trattava di lettere autografe, lettere autografe sia di Mussolini che di Cercini, quindi di un'importanza storica evidente e enorme. A Como la gestione dei documenti è motivo di attrito fra il capitano Neri e i suoi compagni di partito, in particolare Dante Gorreri, il dirigente comunista che nel gennaio 1945 è stato catturato e torturato assieme a Neri, poi fuggito in Svizzera grazie a un compromesso con le autorità fasciste. Gorreri è anche responsabile della gestione dei valori sequestrati ai gerarchi fascisti. Neri, alla Federazione del Partito Comunista di Como, ha un violento diverbio con Dante Gorreri il 4 maggio 1945. Oggetto della lite, la gestione legale dei valori dei gerarchi e dei documenti di Mussolini. C'è una testimonianza che l'ha sentito gridare, io sono comunista ma non sono un ladro e dovete riportare tutto quello che avete preso, non è roba nostra. Per Neri si sarebbe dovuto procedere a un'equa distribuzione fra tutti i partiti antifascisti. Gorreri non poteva accettare che il loro di dongo venisse anche in mano ai liberali, ai democristiani, ai socialisti. Ed evidentemente questa è la decisione che praticamente provocò la morte di Neri. Ma l'astio del comunista Gorreri nei confronti del comunista Neri è forse alimentato dalla consapevolezza di averlo tradito e di aver fatto un compromesso col federale fascista di Como per aver salva la vita, come conferma Vittorio Galfetti, responsabile della caserma in cui Gorreri e Neri erano trattenuti. Gorreri è stato lì per un po' nella mia caserma e poi a un certo momento sono venuti quelli appunto dell'ufficio informazionale a prenderlo e prelevarlo e da uno di quelli che sono venuti a prelevarlo io ho sentito che dovevano fucilarlo, che dovevano fucilarlo. In un secondo tempo, poi dopo un po', dopo qualche giorno, ho saputo che il Gorreri era stato portato, sì è vero, verso il bisbino, ma a un certo punto del bisbino c'erano le guardie che dovevano ucciderlo, che non solo non l'hanno ucciso, ma con il loro comandante hanno deciso di liberarlo. Nel carcere di Como nel gennaio 1945, Neri ha subito pesanti torture dalle Brigate Nere, senza parlare assieme alla coraggiosa staffetta partigiana Gianna. Nello stesso periodo, il dirigente comunista di Milano, Pietro Vergani, emette una condanna a morte per un presunto tradimento di Neri e Gianna mai dimostrato. Sicuramente Neri diverge dalle scelte del partito comunista che con la svolta di Salerno ha accettato un compromesso politico con i monarchici, i quali tendono a frenare lo slancio verso un'insurrezione popolare finale. Neri sembra scomodo sia per i propri compagni di partito che per i partigiani monarchici filobritannici, arroccati su posizioni cosiddette attendiste. Neri, figura chiave della resistenza comasca, è in contatto con le basi alleate in Svizzera. Il suo nome risulta su un lascia passare alleato assieme a quello di Angelo Zanissi, un agente che passa senza problemi dalla collaborazione con i tedeschi a quella con inglesi e americani. Zanissi è alle dirette dipendenze di Malcolm Smith, responsabile dei servizi segreti britannici a Milano e coinvolto nella caccia al carteggio segreto Churchill Mussolini. Anche Zanissi, come Vergani, diffama il capitano Neri, accusandolo di essere una spia degli inglesi. È un'ulteriore ingiusta diffamazione nei confronti di un partigiano di provata lealtà. Neri e la staffetta Gianna sono una leggenda nei ricordi degli abitanti del lago. Inoltre Neri voleva a tutti i costi salvare la vita a Mussolini e sottoporlo a regolare processo. Neri ha avuto accesso al contenuto del carteggio prima di morire. Voleva portare alla luce qualcosa che invece a tutti i costi si voleva occultare? Oscar Sforni, il repubblicano alla guida del Comitato di Liberazione di Como, nel dopoguerra si batte per far luce sulla misteriosa sparizione del suo amico Neri. Testimone oculare dei fatti di Dungo, Oscar Sforni in un memoriale denuncia la scomparsa dell'archivio segreto di Mussolini, dei carteggi storici delle conferenze di Stresa, del carteggio personale fra Mussolini e Churchill e di un altro fra Mussolini e Chamberlain e dichiara si ha la notizia incredibile che queste carte di un'importanza così evidente per la nazione e per la storia sono state ritirate da ufficiali inglesi dell'Intelligent Service in occasione della venuta di Churchill sul lago di Como. Mussolini, già alcune settimane prima della fine della Repubblica di Salò, confida ai suoi uomini di fiducia il contenuto del carteggio segreto con Churchill. Anche Claretta Petacci è testimone di quanto accade. Il 7 marzo 1945, Mussolini scrive al maresciallo Graziani, comandante di tutte le forze armate di Salò. Churchill sa che io ho le cartucce pronte. Certamente si mangia le unghie per la sua lettera dell'ottobre 1940, ora che si trova nelle grinfie dell'orso russo. E se io agissi? La sua posizione diverrebbe insostenibile, sarebbe la fine, potrebbe avere come conseguenza il suo siluramento. Fine per noi augurabile? No, non sono di tale avviso. Per noi è un ponte, un appiglio in caso di estrema necessità. Tutto questo Churchill lo sa benissimo. Ma la fonte che permette di capire quale potesse essere la reale importanza e pericolosità del carteggio è la copia salvata a Ginevra da Enrico De Toma, il tenente della Guardia Repubblicana di Salò e da lui stesso recuperata nel 1951 a Ginevra. Nell'aprile 1954 i documenti vengono pubblicati dal settimanale Oggi. Se vere, le poche lettere emerse dal copioso carteggio aprirebbero uno squarcio sulla vera relazione fra Churchill e Mussolini. Le lettere, segnate dalla controversia sulla loro autenticità o meno, sono state visionate e pubblicate dallo storico Arrigo Petacco. Sono su carta filigranata e variamente intestata. Il carteggio rivela negoziazioni segrete fra Churchill e Mussolini, mai riconosciute dalla storia ufficiale. Mussolini quando entrò in guerra il 10 giugno del 40 era convinto che entro luglio e agosto la guerra finisse perché c'era la famosa blitzkrieghe che finisce in 448 e lui disse mi bastano 2000 morti per andare al tavolo della pace. Lui credeva di andare al tavolo della pace, poi invece le cose cambiarono. Ho dei dubbi sulle ultime lettere di Churchill perché scrivere un fantasma non lo vedo. Per gli altri no, comunque il mistero è grande, il mistero è ancora inesplorato. Suce! Giuro di essere fedele al re e ai suoi reali successori, di osservare lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato, di addempiere a tutti i doveri del mio Stato al solo scopo del bene inseparabile del re e della patria. Lo giuro di voi! Lo giuro! Nella prima lettera del carteggio recuperato da De Toma in data 14 marzo 1940, tre mesi prima dell'entrata in guerra dell'Italia, Churchill offre a Mussolini in nome del governo britannico un patto di non-aggressione se l'Italia si attiene a una ferma neutralità nei confronti delle tue potenze in lotta, Alleati e Germania. In cambio, si dichiara pronto a negoziare ricompense per l'Italia. Churchill assicura a Mussolini che le sue richieste di territorio nel Mediterraneo sono state prese in esame, ma rifiuta trattative che riguardino Malta, il Sudan o la Somalia britannica. Apre la possibilità una revisione delle frontiere dell'Uganda, del Kenya in Africa orientale, come pure in Africa settentrionale, firmandosi, con sincera devozione, Winston Churchill. Ma quando Churchill, come primo lord dell'ammiragliato, impone un blocco navale alla Germania, Mussolini è furibondo per il danno causato all'Italia. In un incontro con Hitler al Brennero, conferma che l'Italia marcerà al fianco della Germania. Il gioco di Mussolini, però, è più complesso. Segretamente risponde a Churchill con tutt'altro tono, ribadendo le richieste dell'Italia per Malta, Tunisia, Sudan, Somalia francese e britannica. Dalla Francia Mussolini pretende la Savoia francese, Nizza e la Corsica. A queste condizioni, l'Italia avrebbe firmato un trattato di amicizia anche per 50 anni. Per Arrigo Petacco, lo stile della lettera è tipico di Mussolini e la firma è autentica. Per portare avanti il progetto di neutralità per l'Italia, Churchill si rivolge all'ex ambasciatore italiano a Londra, il conte Dino Grandi, con una lettera in data 7 aprile 1940, perché appoggi la sua proposta inviata a Mussolini. Churchill dichiara che urge una decisione prima che gli eventi sfuggano al controllo. In quei primi giorni di aprile, secondo Petacco, Mussolini era pronto a negoziare con gli inglesi. Nella settimana precedente, per la prima volta a Notociano, aveva ammesso la possibilità di sconfitta della Germania e del collasso del regime nazista. Quale fosse il colpo di scena progettato dagli inglesi, si evince dal carteggio recuperato da Tetoma. È una proposta che sembra inverosimile. Churchill chiederebbe all'Italia di entrare in guerra contro l'Inghilterra e la Francia. Ma non è il solo. Anche la Francia avrebbe segretamente sollecitato l'entrata in guerra dell'Italia. Lo scopo sarebbe stato quello di mitigare al tavolo della pace le dure pretese dei nazisti. Lo si evincerebbe dal contenuto di 72 lettere che il presidente della Repubblica Francese Lebrun e Vittorio Emanuele III si sono scambiati nell'aprile e nel maggio 1940, quando la Francia sta per essere sconfitta da Hitler. La notizia dell'esistenza del carteggio segreto viene divulgata due anni dopo la morte di Umberto II nel 1985 dal suo aiutante di campo, Franco Baldo Chiocci. Sull'autenticità di queste lettere si discute ancora. Canali segreti, anche fra i più terribili nemici, esistono sempre. Ci sono sempre funzionati. Durante la guerra hanno funzionato regolarmente. Per certe comunicazioni avevano dei canali, sicuramente, questo non c'è dubbio. Ecco perché non escludo del tutto questa ipotesi. Il documento conferma la tesi che Churchill avrebbe proposto a Mussolini un accordo segreto perché l'Italia si impegna a proteggere gli interessi britannici anche in caso di una vittoria italiana al fianco della Germania. In cambio, il governo britannico si impegna sull'onore a sostenere le rivendicazioni dell'Italia contro la Francia per la cessione di Nizza, Savoia, Corsica, Tunisia e Gibuti. Si impegna a restaurare il diritto dell'Italia nel Mediterraneo. Vittorio Emanuele III, al corrente delle segretissime negoziazioni, scrive una lettera il 2 maggio 1940 indirizzata a Mussolini nella quale si dichiara nettamente favorevole all'accordo firmandosi affettuosissimo cugino Vittorio Emanuele. Due giorni dopo, il 4 maggio, Mussolini risponde a Churchill Eccellenza, ho l'onore di comunicarvi l'alto assenso di sua maestà il re d'Italia, imperatore di Etiopia, a iniziare le trattative del patto che, sullo schema da voi inviato, ci appresteremo a redigere. Mi auguro vivamente il raggiungimento dell'accordo da voi auspicato. E conclude Attenderò tramite vostro ambasciatore comunicazioni ufficiali. Con tutta cordialità e stima, Mussolini. Un mese dopo, il 10 giugno 1940, Mussolini entra in guerra al fianco della Germania contro Gran Bretagna e Francia, ma lo scambio segreto di lettere continua. Il 6 luglio 1940, con la Francia sconfitta da Hitler, Vittorio Emanuele III manda un biglietto a Mussolini. Eccellenza, vengo informato che Churchill avrebbe fatto alcune proposte interessanti e che potrebbero preservare il paese da un conflitto nel Mediterraneo. Veda di fare debito e ponderato conto di queste proposte con spirito obiettivo. E se le offerte inglesi sono appena accettabili e le difficoltà relative, mi riferisca con urgenza sulle modalità di un possibile accoglimento. Suo Vittorio Emanuele. Dal carteggio di De Toma, si comprende che Mussolini abbia inviato delle rivendicazioni italiane a scapito della Francia. Questo documento manca, ma il contenuto viene confermato da una lettera di Churchill il 20 luglio a Mussolini. Come nel passato e nel futuro, il governo di sua maestà dà pieno appoggio alle rivendicazioni territoriali dell'Italia contro la Francia, a patto che il vostro governo si ritiri dal conflitto. Churchill è disposto a concedere all'Italia Nizza, la Savoia, Tunisi, Djibouti, tutti i territori francesi. Il carteggio non contiene la risposta di Mussolini. L'Italia nel frattempo è stata sconfitta in Grecia, ha perduto 200.000 soldati in Libia e il vicere di Etiopia, Amedeo di Saboglia, si è arreso con 600.000 soldati, segnando la fine dell'impero italiano. La lettera successiva di Churchill porta la data del 5 maggio 1941, un anno dopo. Circa un anno fa ebbe occasione di offrire a vostra eccellenza la possibilità di rafforzare la vostra posizione con un trattato di pace separata nel tentativo di evitare al vostro paese la perdita dell'Abissinia. Churchill gli consiglia poi di riconsiderare una pace separata. prima, scrive Churchill, che le fiamme della guerra divampino avvolgendo l'intero continente europeo. Un mese dopo, Hitler invade la Russia. Il carteggio recuperato da Detoma si interrompe nuovamente dal maggio 1941 fino a novembre 1943. Gli eventi sono precipitati. L'Italia è crollata ed è nata la Repubblica di Salò. La situazione è radicalmente cambiata. Ora Mussolini, da potenziale e nascosto alleato, diventa per Churchill un pericoloso testimone di patti indicibili. Emerge chiaramente dalla preoccupata lettera che lo statista inglese invia a Mussolini il 10 novembre 1943. Churchill chiede a Mussolini la restituzione di tutta la corrispondenza e, scrive testualmente, dei vari documenti in vostro possesso. In cambio, Churchill fa un'offerta stranissima. Si impegnerebbe a riconoscere la Repubblica Sociale Italiana come stato legale. Churchill richiede anche a Mussolini informazione su tutti i corpi e di staccamenti che combattono con i tedeschi al fronte in terra italiana. È una strana richiesta da parte di Churchill perché si tratta di informazioni che il regolare servizio di intelligence dovrebbe aver raccolto autonomamente. Ma inserita nel contesto dei due incontri segreti di Mussolini con emissari inglesi a Porto Ceresio sul lago di Lugano il 21 settembre 1944 e il 21 gennaio 1945 acquista il significato di un nuovo colpo di scena. Churchill propone un rovesciamento del fronte a danno dell'Unione Sovietica. Le forze di Salò e quelle tedesche si sarebbero dovute unire agli alleati e insieme lanciare un'operazione congiunta nei Balcani per bloccare l'avanzata del comune nemico sovietico. Ecco perché sarebbe stato necessario conoscere con esattezza le forze a disposizione di Mussolini. Quando il piano va a monte per la rapida avanzata dei russi la collaborazione militare di Mussolini non è più necessaria. Nella notte del 21 gennaio 1945 l'attendente di Mussolini Pietro Carradori sente dire dal duce saliti loro in macchina con Baracco e il duce ho sentito che Baracco ha detto però questi inglesi sono sempre i soliti così e lui dice cosa cosa si può aspettare dagli inglesi come per dire che le cose non erano andate non sono il colloquio non era di nostro gradimento dalla lettera del 20 marzo 1945 intestata ambasciata britannica risulta che Churchill avrebbe continuato a scrivere a Mussolini proponendogli un accordo separato nonostante l'accordo con Roosevelt a Casablanca per imporre una resa incondizionata al nemico per sua eccellenza Benito Mussolini come si è rimasti d'accordo nell'ultima riunione del nostro ministero è stato deciso di accettare le vostre richieste al completo Churchill chiede che i punti delle lettere precedenti siano completamente rispettati e promette in cambio di essere a completa disposizione per salvaguardare la sicurezza di Mussolini per la quale ha dato le necessarie istruzioni nel carteggio segue un'altra lettera di Churchill datata 31 marzo 1945 proveniente da Londra lo statista inglese informa Mussolini che il governo britannico ha accettato per intero le sue proposte ma a condizione che il duce restituisca tutte le lettere e i documenti che lo riguardano in suo possesso Churchill aggiunge che ha già agito per la sicurezza di Mussolini e per il suo salvacondotto per la famiglia e i parenti del duce se ne sta occupando il quartier generale l'ultima lettera di Mussolini rinvenuta nelle carte di De Toma indirizzata a Churchill è del 21 aprile 1945 quattro giorni prima della fuga del duce da Milano verso Como Mussolini accetta le proposte di Churchill in cambio chiede una resa condizionata e onorata vuole l'onore delle armi a tutte le forze armate di ogni categoria e specialità inoltre non deve essere compiuto alcun atto di violenza contro i gerarchi del disciolto partito nazionale fascista o della Repubblica sociale contro ministri di Stato collaboratori italiani o stranieri in cambio Mussolini promette testualmente il plico dei documenti che a vostra eccellenza interessa riavere per l'importanza capitale che in esso è contenuto sarà brevi mano personalmente da me consegnato attendo alla prefettura di Milano tramite vostro servizio immediate assicurazioni alla presente cordialmente Mussolini se il carteggio esistesse ed è felice credeva che esistesse anzi è morto dicendo il prossimo libro purtroppo è morto presto perché lui diceva di avere le prove non ne sono certo però se esistesse e molte molte prove che Mussolini e Cerci sia stato qualcosa ci sono ci sono e sarebbe molto interessante rivedere la storia riraccontare la storia della seconda guerra mondiale le cause della seconda guerra mondiale con motivazioni finora sconosciute il 24 aprile Mussolini scrive l'ultima lettera a Churchill che consegna al tenente Spiegler sì questa è quella lettera famosa che Mussolini mi consegnò il giorno 24 verso mezzogiorno la ricerca dell'archivio di Mussolini che i servizi britannici hanno avviato in Italia sin dall'autunno del 1944 si intensifica dal giorno della morte di Mussolini uomini dei servizi segreti britannici e statunitensi perlustrano il lago di Como e di Garda a Rocca delle Caminate residenza estiva del Duce i soldati polacchi dell'ottava armata britannica distruggono addirittura i pavimenti in legno del palazzo Luigi Carissimi Priori capo dell'ufficio politico della questura di Como è testimone oculare del viavai di agenti stranieri tra le cose che dovevano fare di routine per liberare questa Italia c'era quello di impadronersi dei documenti che aveva Mussolini questo era lo scopo ben preciso l'ex agente segreto della regia marina Aristide Tabasso nel 1945 è comandante della polizia partigiana di Verona e collabora al recupero dei documenti col CIC il controspionaggio americano come ricorda il figlio Franco la mobilitazione di tutti questi servizi di tutti questi agenti speciali di tutti i grandi ingegni alla ricerca di questi documenti manovrati da un'unica persona che era Cerce probabilmente e c'era una qualche cosa che poteva interessare il segreto del carteggio di Mussolini il mistero della sua morte la sparizione dei valori dei gerarchi fascisti si intrecciano inestricabilmente il risultato è una lunga scia di sangue l'inizio di un mistero che ancora oggi è difficile chiarire di certo da questo momento inizia sul lago di Como una serie di esecuzioni mirate e di morti apparentemente accidentali di chi sa troppo e di chi vuole cercare indagare sapere il giornalista Giorgio Pisanò conta 450 omicidi attorno al lago di cui una settantina nella sola città di Como gran parte dei cadaveri finiscono nel lago e non saranno mai più recuperati il partigiano Lino che con Sandrino ha fatto la guardia a Mussolini nella notte fra il 27 e il 28 aprile si vanta nei giorni seguenti con questo mitra ha ucciso il boia 5 colpi a lui e 3 colpi a lei la notte del 5 maggio 1945 a Dongo Lino viene messo a tacere la morte avviene pochi minuti prima di un appuntamento con Neri a cui aveva promesso rivelazioni importanti Lino ufficialmente viene ucciso da un colpo accidentale che si è inferto sotto il mento col suo mitra Mab i 6 maggio i dirigenti della resistenza sfilano a Milano Cadorna Parri Longo Mattei c'è anche Walter Audisio l'uomo che secondo la versione ufficiale del partito comunista avrebbe ucciso Mussolini e Claretta Petacci partigiano ancora sconosciuto al grande pubblico La mattina del 7 maggio qualcuno a Como attende Neri in strada a bordo di un'auto scura secondo il racconto lasciato dalla madre di Neri Maddalena Zanoni alla figlia Luigi non andare perché io ti sento ti sento in pericolo non dire non dire non dire quello che aveva svolto quello che si era svolto in quel momento lì non dirlo non dirlo io ti sento in pericolo e dice mamma hai ragione perché ieri mi giravano avevano in giro quattro figuri quelli ce l'avevano con me però devo andare perché io so devo fare un'operazione di banca e quella la devo fare io solo poi mi ritiro perché sono nauseato questi miei compagni disonesti incoscienti incapaci stanno rovinando tutto il movimento quando la stampa comincerà a attaccarci mi cercheranno ma non so se tornerò Neri confidò alla madre Maddalena molte cose ma non tutto non si sa se uscendo di casa Neri andasse a occuparsi dei valori sequestrati ai gerarchi a Dungo tesoro temporaneamente affidato a Gorreri o se si dovesse occupare dei documenti di Mussolini siccome non poteva farsi aprire la cassaforte perché aveva già litigato due volte allora è andato dal sindaco dice l'autorità Neri quella mattina è atteso sotto casa da un'auto nera sparisce nel nulla per sempre il giorno seguente l'8 maggio Londra festeva certo del suo uomo e evidentemente era giucca come il suo uomo dura no è volitiva è assolutamente convinta di quello che faceva il che è molto bello quindi lasciamo perdere in questi momenti così tristi c'è qualcuno che di cui viene fuori la personalità no il è Grazie a tutti. 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 ripercussioni nel piccolo lembo di terra e di acqua, dove il destino sembra aver concentrato una parte fondamentale, ma poco conosciuta, della recente storia d'Italia. Il 17 luglio 1945, nella Germania occupata dagli alleati, si apre la conferenza di Postam. Roosevelt è morto da tre mesi. Il neopresidente statunitense, Harry Truman, tratta Stalin con freddezza e superiorità. Enrico Fermi e Robert Oppenheimer gli hanno da poco consegnato la bomba atomica, il cui lancio su Hiroshima e Nagasaki segna la resa del Giappone e la fine della guerra. Churchill, piuttosto che ricevere il plauso dei sudditi britannici per aver sconfitto Hitler, durante la conferenza viene sostituito dalla burista Clement Attlee, vincitore delle elezioni in Gran Bretagna. I laboristi lo hanno attaccato per i suoi eccessi anti-bolshevichi, ma Churchill è determinato a bloccare l'espansione del comunismo in Europa. Il 16 agosto 1945, in un discorso alla Camera dei Comuni, parlando della nuova era della bomba atomica, per la prima volta Churchill adopera il termine cortina di ferro, lasciando intendere che la guerra fredda e alle porte. In questo contesto, per Churchill, diventa vitale recuperare il carteggio con Mussolini, la cui pubblicazione lo screditerebbe davanti al palcoscenico del mondo. È talmente vitale che decide di scendere in campo. Il 2 settembre 1945, Churchill è sul lago di Como, ufficialmente in vacanza per dipingere paesaggi lacustri. Alloggia a Moltrasio, nella villa Apraxin, sede dei servizi di sicurezza inglesi, poco distante dal pizzo di Cernobbio, dove Jeanne è stata uccisa, un luogo che Churchill dipinge. Gli uomini dei servizi segreti britannici avvicinano coloro che possono sapere del carteggio e perlustrano l'area del lago frugando in ogni casa o villa in cui le lettere di Churchill abbiano potuto sostare. Il capitano Fede, fratello di Alberto Botta, viene personalmente contattato da un agente di Churchill. È stato qui per vedere, per cercare che lui dipingeva, è andato a Domaso, è andato in quella zona, si è fermato un po' giù sulla spiaggia qui ad Acquaseria, poi è andato, poi c'era la Sara assieme, la figlia di Winston Churchill, Sara. E lui è stato contattato da uno di questi inglesi che parlavano perfettamente italiano. Gli agenti del servizio di sicurezza britannico sono guidati dal maggiore Malcolm Smith. Lo statista inglese si reca di persona dal comandante della guardia di finanza di menaggio Luigi Villani, testimone delle ultime ore di Mussolini. Si reca nella villa del futuro senatore leghista Gianfranco Miglio, dove, secondo la testimonianza del partigiano Bill, le borse di Mussolini avevano sostato. L'industriale Guido Donegani, dai trascorsi fascisti, proprietario della Montecatini, nonché della villa a Praxin, dove alloggia Churchill, riceve la promessa di protezione se collabora alla ricerca del carteggio Mussolini Churchill. Donegani recupera una parte dei documenti, forse la copia che Mussolini aveva affidato alla moglie Rachele. Donegani viene inaspettatamente scarcerato da Togliatti, ministro della giustizia, nel novembre 1945. Malcolm Smith convince il dirigente comunista di Como, Dante Gorreri, a vendere l'originale del carteggio Mussolini Churchill, che ha custodito nella sua cassaforte. Gorreri consegna gli originali all'inglese in cambio di due milioni e mezzo di lire, somma enorme per quei tempi. Secondo Massimo Caprara, che è stato per vent'anni segretario di Togliatti, lo scambio è frutto di un accordo fra vertici. Mi meravigliò molto che Togliatti avesse una fotografia fatta in comune tra lui e Cecilia. Per quale motivo mi chiedeva? Appurai direttamente da Togliatti che l'incontro era stato un po' figo per certo, perché Togliatti aveva consegnato, evidentemente d'accordo con la nomenclatura sovietica, con il partito con i sovieti, le carte famose. Il 16 settembre 1945 Churchill lascia il lago di Como, ha raggiunto il suo scopo, ha recuperato gli originali delle sue lettere, anche se rimangono in giro ancora varie copie, ma le strane morti continuano. Quello che stiamo raccontando è il primo grande mistero che semina sangue e morte nell'Italia nata dalle ceneri della guerra. In odore di mistero è anche la morte di Carlo Alberto Biggini, ministro dell'educazione di Salò, un moderato apprezzato anche dagli antifascisti, docente di diritto costituzionale e rettore dell'Università di Pisa. A lui Mussolini aveva consegnato copia del carteggio. Biggini riceveva regolarmente da Mussolini una copia di tutti gli atti che riguardavano i rapporti di Mussolini con gli inglesi. Mussolini riponeva grande fiducia in Biggini e gli aveva affidato il compito di scrivere la verità. Ma Biggini muore misteriosamente il 19 novembre 1945. Il 23 aprile alle 5 del mattino ha abbandonato Villa Gemma, sua residenza a Maderno sul Garda e il 26 mattina si è nascosto nella Basilica del Santo a Padova, confidando nell'extraterritorialità. Non ha con sé la copia del carteggio. Sotto la minaccia dei partigiani l'ha lasciata al momento della fuga a Villa Gemma sul tavolo dello studio in una cartella di marocchino rosso. Da Padova viene trasportato alla clinica San Camillo di Milano sotto il falso nome di Professor Mario De Carli, dove gli viene diagnosticato un tumore al pancreas. Biggini ha 43 anni. A Milano ogni visita gli viene negata, anche quella della moglie. Solo il suo segretario Dino Campini riesce a incontrarlo. A lui Biggini confida la grande preoccupazione per la documentazione della cartella di marocchino rosso, quella della cosiddetta linea d'ombra. Nessuno sa la loro importanza, nessuno sa quei segreti. La segretaria di Padre Gemelli, che poteva, era l'unica ad avere accesso alla stanza dove era ricoverato, negò più volte con me e con altri colleghi di averlo mai avvicinato, quindi mentì. Quindi ci sono una serie di misteri attorno alla morte di Biggini. Naturalmente il mistero più grosso riguarda la scomparsa delle carte, delle copie, dei documenti che riguardavano i contatti di Mussolini con inglesi, copia che Biggini custodiva in una cartella di marocchino rosso nella villa che occupava sul lago di Garda, cartella misteriosamente scomparsa, mentre ci sono fotografie che ritraggono Churchill davanti a questa villa. Solo recentemente è emerso un documento redatto da Padre Agostino Gemelli. In qualità di medico, Padre Gemelli certifica che l'ex ministro Carlo Alberto Biggini non ha mai avuto un tumore al pancreas. Queste sono le ultime pagine del diario di Biggini. È la prima volta che viene reso pubblico dall'istituto Carlo Alberto Biggini. Il diario si interrompe il 26 aprile. L'agente segreto della reggia marina, Aristite Tabasso, dal 1945 come capitano della polizia partigiana, lavora con il controspionaggio americano assieme all'agente speciale Sam Foreman. Con lui setaccia il lago di Garda e l'intera area del Veneto, recuperando un'altra copia del carteggio. È forse quella lasciata dal ministro Biggini? Franco Tabasso, trasferitosi col padre a Verona, racconta che una sera del marzo 1946, verso le 23, giunge a casa il padre Aristide, armato di mitra e recando una grossa valigia che deposita sul letto del figlio. È in compagnia di un giornalista di Verona. I due aprono la valigia, e sfogliano i documenti contenuti. Ho cercato di guardare, ho sentito i commenti, erano di una certa importanza. Il giornalista disse, capitano se lei mi fa fare una fotografia a questa pagina solamente, le prometto che le avrà 5 milioni. Mio padre chiuse tutto, valigie, tutto quanto, disse grazie, era questo che volevo sapere. Non volevo i 5 milioni. Aristide Tabasso fa fotografare all'agente Foreman i documenti recuperati presso la sede del controspionaggio americano a Verona, in via Bezzecca 3. In quella stanza che io vidi venivano fotografate e mandate tutte quante gli Stati Uniti. Ma Tabasso ne trattiene una. È la copia del carteggio che Tabasso fa arrivare al luogotenente Umberto di Savoia. Sono presenti il questore partigiano di Verona, Gianni Marini, e Falcone Lucifero, ministro della Real Casa. Consegnavano questa valigia al luogotenente Umberto II, il quale lo ringraziò e disse che vi danno, non so come finirà, ma gliene saremo grati. 15 giorni dopo, Tabasso riceve una raccomandata inviata da Falcone Lucifero che conferisce a Tabasso la commenda dell'Ordine della Corona d'Italia in segno di speciale considerazione. Il re Vittorio Emanuele III mette in guardia il figlio Umberto da un'eventuale divulgazione del contenuto che, se reso pubblico, dice il re, avrebbe scatenato una guerra civile in Italia. Il dirigente comunista di Como, Dante Gorreri, ha segretamente trattenuto una copia nell'armadio metallico della sede del Partito Comunista, la sua cassaforte. Nell'aprile 1946, carissimi priori riceve la visita della professoressa Azzali, inviata dal Partito Comunista di Roma, per indagare su Gorreri e accertarsi dell'appropriazione indebita di valori e documenti. I due di notte penetrano nella sede del Partito Comunista e forzano l'armadio cassaforte. La Azzali rinviene a oggetti d'oro, carissimi priori, una cartellina rosa. A me è capitato per le mani, facendo così, di vedere una cartellina rosa nella quale c'era scritto «Certi». Io sapevo allora, sapevo, sapevo che c'erano a dongo di tutto, perché c'erano delle tracce, perché qualcuno aveva detto, ma dico, proprio qui. Comunque io non volevo neanche che lo sapesse lei. E me le sono infilate dentro. Era una cartellina. La cartellina rosa forse è la stessa contenuta nella borsa sequestrata da Bill a Marcello Petacci. La copia di carissimi priori viene data al conte Annoni di Gussola che la consegna a De Gasperi, il quale probabilmente la recapita a Churchill in Vaticano. Secondo carissimi priori, il carteggio nel 1945 era scottante perché documentava trattative politiche di Churchill con Mussolini all'insaputa dei suoi alleati, Francia e Russia. Lui offriva a Mussolini delle cose che non erano dell'Inghilterra, erano della Francia. Confermando le rivelazioni del carteggio recuperato da Enrico De Toma, lo statista inglese promette al duce, in cambio della sua neutralità nel 1940, la concessione di terre non sue, come Nizza, la Savoia, Tunisia, Dodecanneso, parte della costa d'Almata. Le lettere che lui ha spedito a Churchill ci sono nel suo dossier, perché lui faceva una copia a mano della lettera e la teneva, quindi in quel dossier di 62 lettere ci sono lettere scritte da lui e scritte da Churchill, non solo lettere di risposta di Churchill. Ma il carteggio più importante riguarderebbe lettere scambiate fra i due statisti dopo il 1940 e specialmente nel 1944-45. Churchill, alleato di Stalin, voleva già servirsi dell'esercito nazista in Italia e delle forze armate di Salò per bloccare l'avanzata dei sovietici nei Balcani. Anche in questo caso una conferma da un testimone oculare. Churchill cercava di avere l'accordo di Mussolini e l'aiuto per fare una pace separata e insieme alla Germania fare un fronte comune di guerra contro il comunismo. Anche in Italia la decima mass del principe Junio Valerio Borghese, segretamente in accordo con gli alleati attraverso i servizi segreti americani, è già impegnata in Friuli per contrastare le forze di Tito. Questa situazione di mobilitazione contro l'alleato Stalin avrebbe potuto scatenare all'indomani della liberazione una guerra civile nell'Italia da poco liberata da partigiani, in gran parte comunisti, come paventato da Vittorio Emanuele III. Le armi paracadutate dagli alleati durante la resistenza sono state restituite solo in parte, molte sono state trattenute e nascoste in montagna. Anche strutture come il SIP, il Servizio di Informazioni Partigiano, sopravvivono a guerra conclusa. Nel 1946 la direzione del SIP passa al dirigente comunista Pietro Vergani, nome in codice Fabio. Per Churchill il vero pericolo è il bolshevismo. Il 5 marzo 1946, dall'Università di Fulton, Missouri, in compagnia di Truman, Churchill ufficializza la cortina di ferro e la divisione del mondo in due blocchi contrapposti. Da Stettino nel Baltico, a Trieste nell'Adriatico, una cortina di ferro è scesa attraverso il continente. Dietro quella linea stanno tutte le capitali degli antichi stati dell'Europa e sono tutte soggette in una forma o l'altra non solo all'influenza sovietica, ma in molti casi a un forte controllo da Mosca. Così come Mussolini vivo è stato protagonista del misterioso carteggio, anche il Mussolini defunto è involontario protagonista di altri e nuovi misteri. A distanza di tempo e di luogo, un filo sotterraneo sembra legare le carte scomparse alle spoglie dell'uomo che le originò, anch'esse occultate, ricercate, trafugate. A Milano, nella notte del 23 aprile 1946, il cadavere di Mussolini viene rubato dal cimitero Musocco dove è stato seppellito in assoluto segreto. Il trafugatore è Domenico Leccisi, un fedele del Duce. Il cadavere sparisce per 12 anni. Sarà restituito alla famiglia solo nel 1957. Intanto le polemiche su come sia stato effettivamente ucciso Mussolini non si placano, così come non si fermano le indagini sulle inquietanti sparizioni del capitano Neri, di Gianna e di altri partigiani scomparsi. Un anno dopo, un'altra tragica scomparsa da annoverare nel lungo elenco che andiamo compilando. È il giornalista Franco De Agazio, direttore del Meridiano d'Italia. È impegnato da mesi in un'inchiesta sui fatti di Dongo che faccia luce tra l'altro sulla vicenda di Gianna e Neri, che sappiamo implicati nella scomparsa dei documenti. Pubblica la prima puntata. Quando esce la seconda, De Agazio è già morto. Due giorni prima, il venerdì 14 marzo 1947, Franco De Agazio viene freddato sulla porta di casa. Il giorno successivo al delitto, il 15 marzo, il generale Leone Zingales, per conto della procura militare di Milano, ha raccolto le prove sui responsabili del trafugamento dell'oro di Dongo e dei documenti di Mussolini e sugli esecutori degli omicidi. Improvvisamente, il giorno dopo la morte di De Agazio, il generale Zingales viene rimosso dall'incarico. Il 18 marzo viene inviato a Roma col pretesto di giurare fedeltà alla Repubblica. Si rifiuta e chiede di essere collocato a riposo, dichiarando. Il trattamento recentemente usatomi offende la mia dignità di magistrato e demolisce l'opera da me prestata nell'espletamento di un compito in cui le supreme ragioni della giustizia si associavano ad alti interessi morali e materiali del paese. Che cosa avrebbe scoperto Leone Zingales? Churchill comunque non è ancora soddisfatto. Uscito dalla scena politica dal luglio 1945, attende il momento favorevole a un ritorno dei conservatori al governo della Gran Bretagna, ma nel frattempo continua l'opera di recupero del suo carteggio con Mussolini. Secondo varie fonti, anche Alcide De Gasperi è protagonista della restituzione del carteggio segreto allo statista britannico. Il 25 luglio 1949, Churchill va in vacanza sul lago di Garda, a 75 anni. Circondato da agenti del servizio di sicurezza, si lascia tranquillamente riprendere e fotografare a Maderno, mentre dipinge sulla spiaggia sottostante la Villa Gemma, quella precipitosamente abbandonata dal ministro dell'educazione di Salò, Carlo Alberto Biggini. Gli agenti britannici perlustrano la villa e l'intera area. Si recano anche dalla vedova del ministro, che tacerà a lungo sull'inattesa visita. L'anno seguente, nell'estate del 1950, Churchill ritorna in Italia recandosi sul lago di Lugano. Nella villa di Porto Ceresio, scelta dal capo dei servizi segreti di Salotto, Maso David, per gli incontri segreti di Mussolini con gli emissari inglesi, i nuovi proprietari milanesi, la famiglia Travaglia, riceve la visita notturna di ladri che non rubano nulla in casa, ma mettono a soquadro l'archivio. È chiaro che sono a caccia di documenti. L'affannosa ricerca dello statista britannico è forse dettata dall'esigenza di eliminare ogni prova compromettente che possa danneggiare l'imminente campagna elettorale che lo porterà di nuovo al governo come leader dei conservatori nel 1951. Non è forse un caso che nel 1951 l'ex tenente della Guardia Repubblicana Enrico De Toma, a cui Mussolini ha affidato una copia del carteggio, torna a Ginevra per riprendere le borse segretamente depositate. Coloro che sanno spingono perché si faccia chiarezza, come Aristide Tabasso, la cui storia viene pubblicata sulla rivista Asso di Bastoni. Secondo la testimonianza del figlio Franco, Aristide Tabasso richiede a Umberto II in esilio di rendere pubblica la documentazione che gli ha consegnato. Ma il 19 agosto 1951 Aristide Tabasso, uomo di sana Costituzione, viene ricoverato all'ospedale di Verona per un banale intervento di tonsillite. qualche giorno dopo, muore. Il cappellano dell'ospedale suggerisce al figlio Franco la distruzione immediata dei documenti del padre. L'improvviso decesso suscita perplessità. Gli amici sollecitano un'autopsia. Volevano che io autorizzassi a loro a fare delle domande, agire in modo tale che fosse fatta l'autopsia. Mi dispiace amici miei, ho lasciato lui riposare in pace, perché se l'hanno fregato, sono state all'altezza di fregarlo. Un uomo del genere che sono state all'altezza di fregarlo, lo fregheranno anche dopo morto. In ottobre, Churchill vince le elezioni. Nell'estate del 1952, si reca sul Lago Maggiore, alla Veno. Soggiorna a pochi chilometri dal paese di Cittiglio, in provincia di Varese, dove vive la figlia di Tommaso David, a cui Mussolini aveva consegnato una copia del carteggio. David ha mostrato al nipote Claudio le lettere di Churchill contenute in un astuccio di cannocchiale. In quei giorni arrivano in casa emissari inglesi in cerca del carteggio. Churchill è venuto qui sul Lago Maggiore, dove era venuto per dipingere, però abbiamo avuto delle visite qui per poter avere l'indirizzo di mio nonno e che mia madre, che era la figlia che era stata politicamente più vicina a lui, intercedesse per queste cose, per questo dossier. La copia data a Tommaso David viene tenuta nascosta fino a quando non è restituita, probabilmente con la mediazione di Alcide De Gasperi, a Churchill, in Vaticano, alla presenza dell'ambasciatore inglese presso la Santa Sede nei primi anni 50. In cambio David, che era stato il comandante dei servizi segreti della Repubblica Sociale e dei sabotatori dietro le linee alleate, riceve una medaglia d'oro al valore militare dalla Repubblica antifascista italiana per aver partecipato a gruppi armati contro Tito. Nell'estate del 1952 anche Luigi Carissimi Priori, capo dell'ufficio politico della questura di Como, riceve la solerte visita di uomini dell'intelligent service. Carissimi Priori, fino alla morte, ripeterà che il carteggio esiste e che prima o poi verrà alla luce. Deve uscire. Io credo dalla parola di certe persone. E De Gasperi era una persona rispettabilissima, credibile. La copia data all'ambasciatore Shinrokuro Idaka può essere stata distrutta a Berna al momento dalla disfatta giapponese, oppure, più probabilmente, è stata consegnata al governo statunitense attraverso Allen Dallas, il capo dei servizi segreti americani di stanza a Berna. È singolare che l'ambasciatore Idaka, a guerra conclusa, dopo una breve prigionia e una soluzione in un processo per crimini di guerra, riprende l'attività diplomatica. Non solo, ma è anche il primo giapponese a cui il governo statunitense concede di ispezionare tutti i consolati del sollevante negli Stati Uniti. Enrico De Toma, il tenente della Guardia Repubblicana, parte da Milano con i documenti di Mussolini, li recupera a Ginevra. Nell'aprile 1954 i documenti vengono pubblicati dal settimanale Oggi. Ma dopo quattro settimane, la loro divulgazione improvvisamente e senza un'apparente motivazione, si interrompe. Il carteggio torna alla ribalta nel 1957. Il figlio di Aristide Tabasso, Franco, pubblica in marzo un libro di memorie, narrando le avventure spionistiche del padre. Ma la vera novità sono i capitoli che dedica ai documenti, circa 40 chili di materiale, che il padre aveva recuperato fra il 45 e il 46 nella zona di Verona. Franco Tabasso affida la documentazione al tribunale di Padova, che ha aperto un processo per la sparizione del cosiddetto oro di dongo e per le morti di Gianna, Neri e altri partigiani. Tabasso presenta la sua voluminosa documentazione al tribunale. Non solo, ma fa intendere quali possano essere i possibili mandanti della morte del padre. Il processo di Padova intanto va avanti ed emergono importanti indizi sulla morte di Mussolini, sulla sparizione dei valori, sulla presenza di documenti importanti e sulla reale esistenza del carteggio Churchill Mussolini. Mai si era stati così vicini alla verità, ma ancora una volta accade qualcosa che blocca il fiume in piena delle testimonianze. Era stata artatamente sparsa la voce che Neri era stato ucciso dalle formazioni comuniste perché era un traditore. La cosa più falsa di così era impossibile pensare. Neri è stato ucciso, era una persona limpida, questo si è saputo e anche gli avvocati della difesa lo ammettevano. Capitano Neri era una persona di una limpidezza enorme, così pure della Gianna che era la sua donna. Neri è stato ucciso perché temevano, dato che era una persona limpida, chiara ed onesta, temevano che a un certo punto sarebbe venuto il re dell'Azion, che avrebbe parlato onestamente e sinceramente, avrebbe spiegato come ci erano svolti certi fatti. Certi fatti che riguardavano l'oro di Dongo e certi fatti che riguardavano movimenti politici. Come nel 1947 con il generale Zingales, quando il processo sembra prendere il giusto corso, cinque giudici popolari si ritirano per motivi di salute. Resta solo il giudice Silvio Andrighetti che è sulle tracce della vera causa della sparizione di Neri. Anche l'avvocato Angelo Ruzzani raccoglie una vasta documentazione senza riuscire a far luce sul mistero. Era molto amareggiato perché diceva non riuscirò mai a scoprire la verità, non riuscirò mai a scoprire chi è stato, perché un conto è l'ordine, ma è un conto sapere chi è stato, chi ha sparato i colpi, chi l'ha ucciso veramente. Cosimo De Angelis era il questore politico di Como, aveva detto a mio marito guarda che questo processo non si farà mai e se putacaso si dovesse fare non andrà a buon fine, infatti il processo siccome andava tutto a loro sfavore non è andato a buon fine, si è ucciso il giudice Andrighetti e il processo si è fermato. Il 25 luglio 1957 Silvio Andrighetti pranza in un ristorante di Como e viene colpito da improvviso malore. Il successivo 13 agosto nelle prime ore del mattino Andrighetti inaspettatamente si toglie la vita con un colpo di pistola alla testa, il processo viene sospeso e non sarà mai più ripreso. Venuta meno la possibilità di un accertamento giuridico della verità, anche il cadavere di Mussolini viene a perdere il suo inquietante valore simbolico. Le sue spoglie fino a quel momento occultate possono finalmente essere restituite alla famiglia. A fine mese, il 30 agosto 1957, anche la vicenda del cadavere di Mussolini si conclude. Le spoglie, rinvenute sotto l'altare della certosa di Pavia, vengono ufficialmente restituite a Rachele Mussolini e alla famiglia. Una pietra tombale sembra calare non solo sui resti del duce, ma anche sulla possibilità di fare chiarezza una volta per tutte su questo che è il primo grande mistero della storia d'Italia nel dopoguerra, fino alla comparsa sulla scena di un altro protagonista, Bruno Lonati, ovvero il partigiano Giacomo. Sono io, dice Lonati, insieme al capitano dei servizi segreti John ad aver ucciso il capo del fascismo. Bruno Lonati sostiene che la causa vera della morte di Mussolini è la necessità improrogabile da parte di Churchill di entrare in possesso del suo carteggio con Mussolini. Questo spiegherebbe perché un ufficiale dei servizi segreti, John, in una caccia parallela e concorrente a quella dei partigiani, arriva per primo al rifugio di Mussolini e qui, assieme a Lonati, esegue gli ordini ricevuti, uccidere il duce e mettersi alla ricerca dello scottante carteggio. Lonati dedica anni della sua vita a tentare di dimostrare questa verità, ma ovunque vada sembra che le porte siano per lui inesorabilmente chiuse. In Liguria è andato a ritrovare il partigiano Bruno, che aveva fatto parte del suo commando il 28 aprile 1945. Sono due minuti. Mi dica pure di nole. Sì, sono in casa mia. Posso fare come vuoi? Sì, sono in casa mia. Posso fare come vuoi? Sì, ma si chiude. E come ci mandano da Viale Lombardia, di Milano? Eh, va bene, di Lombardia se non mancano il... Perché lei abitava lì, ci manda l'anziano che... Sì, sì, è Roma in Italia, mi ricordo. Eh, ci mandano loro. E stiamo documentando tutto quello che è accaduto durante... Non mi interessa dire. Arrivederci. Ma non è una cosa per farle di male. Che cosa in più ha detto? Mi aspettavo un diniego, ma una posizione così decisa. Sono in casa mia, posso fare quello che voglio, niente, arrivederci. Sì, però ha detto che ha ricordato noi la Viale Lombardia. Eh? Che noi veniamo dalla Viale Lombardia, eccetera. Quello l'ha messo. Nel 1981 entra in contatto col giornalista Roberto Gervais. Gervaiso, che sta scrivendo un libro su Claretta Petacci. Gli fa leggere le sue memorie che Gervaiso pubblica. In quegli stessi mesi, Lonati entra in contatto telefonico con John, che lo invita a Londra. Riconobbi la sua voce. Non era più un italiano bello pulito come Villotempere. E mi disse, eramo a fine di luglio e prima di agosto, che avrei piacere venire a Londra a trovarti, a vederci. Sì, sì, vieni, vieni, vieni. Ti prenoto io l'hotella. Lonati si reca a Londra con la moglie, attendendo in vano John, che per impegni di lavoro, rimanda l'appuntamento a Milano. In realtà, non si farà mai più sentire. Nel gennaio 1982, Bruno Lonati scrive all'ambasciatore inglese a Roma, Ronald Arcluse, chiedendo una documentazione dell'operazione di guerra compiuta con John, ma non riceve risposta. Il 2 febbraio si reca al consolato inglese a Milano, dove incontra il console Thompson, che dall'archivio tira fuori una cartella contenente le foto scattate da John ai cadaveri di Mussolini e Claretta. Non potevi vederle chiaramente, però intravedi che erano le fotografie che aveva scattato John, quel giorno, quel 28 aprile. Thompson dichiara che è un diritto di Lonati avere la documentazione allo scadere dei 50 anni dai fatti, ossia nell'aprile 1995. Il 28 maggio 1982, Lonati scrive di nuovo al console Thompson chiedendo ulteriori informazioni. La risposta giunge su carta intestata del consolato britannico di Milano il 10 giugno 1982. Un funzionario spiega che Mr. Thompson sta andando in pensione e che i documenti richiesti da Lonati gli saranno consegnati senz'altro a tempo debito. Ma nulla accade. Con l'aiuto della moglie Carla pubblica Quel 28 aprile, Mussolini e Claretta, la verità. Secondo Bruno Lonati il vero nome di John è Roberto Maccarrone, un nome che appare fittizio. Il console Thompson gli avrebbe confidato che John nel frattempo ha fatto carriera, è diventato un dirigente dei servizi segreti britannici ed ha anglicizzato il nome italiano. Il nome allora, però siamo nel 1982, Robert Maccarrone. Nel giugno 1995, Bruno Lonati scrive al nuovo ambasciatore inglese a Roma. La lettera resta senza risposta. Se si potessero vedere le foto scattate da Lonati dai corpi di Mussolini e di Claretta, con anche Lonati nel quadro, non ci sarebbero più dubbi. Nonati di fatti andò al consolato britannico a Milano nell'81 per vedere le foto e gliele fecero vedere. Il console Thompson gli promise che a tempo dovuto le avrebbe restituite, ma da quel giorno ha temporeggiato il consolato. «Essendovi un rapporto di fiducia tra vecchi colleghi dei servizi, pensai di rivolgermi a un amico all'ambasciata, chiedendogli se fosse possibile avere le foto. Dammi qualche giorno», mi disse. «Quando lo rividi, disse «Espiacente, non te li posso fare avere». Non mi disse «Non esistono», mi disse «Non te li posso fare avere». Salutandomi, mi strinse la mano e mi disse «Non ti preoccupare, puoi andare in onda tranquillamente». «Espera il dydiade». « yeah è pronto» « Non è che siamo si intelligenti».